Grazie per essere venuti e vorrei forzarvi a saluti dalla Camera del Lavoro, che dieta di danno, è costante, la Camera del Lavoro di Milano poi non è nuova, è da una vita che ospita gli isti, penso da una tecnopopsia, la vecchia Camera del Lavoro che ha iniziato a parte del mondo del teatro, ma non è mai capitato che abbiamo visto persone, per la prima volta in questo senso, questo è un'idea di importante, poi con noi abbiamo anche la presentazione della musica, quello che organizza un po' quella poi che siamo pagati avanti. E' un saluto particolare poi dell'associazione Secondo Maggio, dell'associazione che io presiedo dalla bellezza di 24 anni e abbiamo tra poco nel 25esimo che fa musica contemporanea che c'è, a collaborare con questo evento possibile, anche se l'anima vera poi di questo evento è anche il popolo che dovrebbe essere ottimo. grazie a tutti. B. Bene, Carloino l'avrete sicuramente detto tutto perché qualcuno di voi non l'avete fatto, ci avete mai potenza di riuscureso, B. Grazie.